Piano qualità aria, dopo l'informativa della Giunta, approvata la risoluzione del Partito Democratico. Istruzione, premiati 34 giovani vincitori del progetto Intercultura, la rappresentanza dei circa 100 vincitori toscani del concorso è stata ricevuta dal Presidente Antonio Mazzeo nell'Aula Consiliare dell'Assemblea Legislativa. Eventi, torno a Montelupo Fiorentino, ceramica, il festival andrà in scena dal 16 al 18 giugno. Al dibattito sull'informativa della Giunta sul piano regionale per la qualità dell'aria e ambiente è seguito l'esame e il voto sulle proposte di risoluzione collegate. Con 24 voti a favore e 9 contrari, l'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato l'atto del Partito Democratico, che impegna l'esecutivo regionale a prevedere la necessità di continuare a sostenere con interventi specifici le aree che in termini di qualità dell'aria presentano maggiori criticità. Con la comunicazione dell'assessore Monni oggi si dà avvio formale alla stesura del nuovo piano dell'aria. Un nuovo piano dell'aria che deve, come da raccomandazioni da più parte arrivate in Aula, superare le emergenze come quelle che abbiamo visto nella piana della lucchesia o di pistoia legate per esempio ai caminetti, un piano dell'aria che deve tenere al centro del proprio pensiero, del proprio obiettivo la salute dei cittadini. Non in termini emergenziali ma di prevenzione, di tutela della salute facendo anche un passaggio davvero culturale con i cittadini che devono comprendere che ogni piccola azione da parte nostra concorre a avere area più pulita e quindi la salute sarà sicuramente migliore. È evidente che nel piano dei rifiuti, nel piano dell'aria deve essere contemplato anche tutto quello che parla di distretti industriali, di grandi insediamenti industriali che devono in qualche modo attivare tutte le azioni che nel piano della qualità dell'aria saranno previste. Oggi è avviato in Consiglio regionale con l'informativa il processo per portare al nuovo piano della qualità dell'aria che essendo un piano di pianificazione del territorio necessariamente ha un percorso molto lungo, esattamente come quello del piano regionale di sviluppo, esattamente come il piano dei rifiuti. Si fa le cose all'incontrare in Toscana, prima si è intervenuti mesi fa con una legge molto dura nei confronti dei comuni perché di fatto si è scaricato sui comuni stessi l'obbligo dell'accatastamento degli impianti e in particolar modo i controlli, prevedendo anche il diritto di rivalza, ovvero sia il diritto della regione di scaricare sui comuni stessi i costi dell'eventuale condanna che il governo italiano dovesse scaricare a sua volta sulla regione Toscana per la situazione e di Firenze, l'inquinamento in modo particolare dovuto come da centralina di Viale Gramsci all'inquinamento dai veicoli oppure la Piana, Lucca, Pisa, Valdarno per quanto riguarda soprattutto l'inquinamento derivante dalle biomasse. In entrambi i casi i bandi fatti in questi anni da parte della regione Toscana non hanno sortito effetti e sono mancati gli investimenti sulle infrastrutture per ridurre l'inquinamento. Abbiamo sostenuto la proposta della nostra Assessora Monni rispetto a un piano che mette in evidenza come la qualità dell'area in Toscana sia migliorata, ci sia un trend positivo, servono le politiche attuate da parte della regione per migliorare anche dei contesti urbani più complessi, due sono elementi di crescita nell'area di Lucca, nell'area di Firenze ma che trovano un elemento di grande miglioramento grazie anche alle politiche fatte dalla regione Toscana, un incentivo a lavorare in sinergia con la comunità europea quindi rispetto alla possibilità di intervenire in maniera puntuale facendo presenti anche le peculiarità di alcuni territori toscani e su questo abbiamo sostenuto una risoluzione votata a maggioranza da parte della nostra coalizione che governa la regione Toscana, Italia Viva e il Partito Democratico. La regione Toscana ha istituito una commissione, un coordinamento fatto da tantissime persone che potevano in qualche modo darci delle informazioni e salvaguardare determinate situazioni negative, in realtà questo nel 2017, nel 2020 e nel 2022 arrivano altre due sanzioni della Corte Europea di Giustizia, una per la Piana Lucchese e una per la zona Prato-Pistoia per quel che riguarda il PM10 e per quanto riguarda il biossido d'azoto per quel che riguarda l'agglomerato di Firenze. Ora io mi domando che nelle nostre note il quadro sanitario è una lettera di intenti e basta, cioè c'è scritto ben poco, per cui al di là di quello che dice l'assessore che sembra vogliano fare qualcosa, in realtà per ora quello che è scritto è veramente solo una lettera di intenti, quindi noi come Lega saremo attenti e vigileremo perché queste belle lettere di intenti si traducono in fatti concreti perché ad oggi siamo sotto infrazione. L'informativa che è stata presentata oggi potrebbe essere la replica di quella che ci è stata fatta cinque anni fa. I passi avanti sono stati pochi, timidi e probabilmente legati più che altro al cambiamento di abitudini che hanno avuto le persone durante il periodo Covid, quindi o le risorse non sono state ben impiegate o le azioni che sono state messe in campo non erano giuste o non erano a sufficienza. In ogni caso c'è una grande responsabilità di questa regione se ancora oggi nell'agglomerato fiorentino e nella piana del Pistoiese si assiste a degli sforamenti continui che mettono l'Italia e nello specifico in questo caso la Toscana in procedura di infrazione. Negli atti che abbiamo presentato abbiamo chiesto innanzitutto maggiore attenzione su tutti gli aspetti del monitoraggio e sul maggiore finanziamento di tutte le risorse che sono adatte per ridurre queste emissioni e quindi maggiore trasporto pubblico, maggiore intermodalità e questo ha molto a che vedere anche con il trasporto pubblico urbano soprattutto nell'area fiorentina e soprattutto maggiori risorse per quanto riguarda le emissioni che vengono dal riscaldamento, maggiori investimenti sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Giornata emozionante mercoledì 31 maggio per i 34 giovani toscani che hanno vinto una borsa di studio intercultura per trascorrere un periodo scolastico all'estero. Ad accoglierli nell'aula consigliare di Palazzo del Pegaso è stato il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo, tanti volontari dell'associazione che hanno partecipato all'evento con i familiari delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori provenienti dalle province di Pisa, Grosseto e Siena e da Sansepolco in provincia di Arezzo. Complessivamente un centinaio i giovani vincitori del concorso di intercultura in Toscana e pronti a raggiungere le destinazioni in tutto il mondo, dall'Irlanda al Canada, dall'Argentina agli Stati Uniti, dalla Thailandia al Giappone. Entrare in quest'aula, l'aula del Consiglio e vederla così piena di ragazze e ragazzi che avranno l'opportunità di sfidare il mondo, di andarlo a conoscere, di aprire i propri orizzonti culturali, di conoscere storie differenti, di portare la bellezza della nostra regione nel mondo. La Toscana è una terra ospitale, una terra aperta, una terra che in questi anni ha avuto la capacità di affacciarsi al mondo cambiando, cambiando anche per come cambia il tempo che viviamo. Questa sarà un'opportunità molto bella, mi auguro che le ragazze e i ragazzi possano riportare qui tanto di quello che riusciranno ad apprendere, ma possano portare anche i nostri usi, i nostri costumi, la bellezza, la storia, la grandezza della nostra terra nel mondo. Insomma un'esperienza bella e sono contento oggi di poter essere qui insieme a tutti loro in Consiglio regionale. Tanti giovani che grazie a una borsa di studi alla Fondazione Intercultura riescono a coronare un sogno, quello di andare all'estero, di vivere un'esperienza straordinaria, di crescere un anno, fare un percorso formativo, studiare e poi tornare e crescere. È una grande opportunità di relazioni con gli altri paesi di tutto il mondo, quindi la Toscana ha ospitato questa iniziativa, questa cerimonia molto importante perché i ragazzi sono il nostro futuro, un patrimonio straordinario, portano la nostra cultura all'estero e nel contempo torneranno a formati. Le vogliamo salutare oggi prima che partano, ovviamente hanno 16 anni, quindi un'età bellissima, straordinaria, molti di loro non hanno avuto coraggio di rischiare e chi ha avuto coraggio di rischiare oggi va a giocarsi un pezzo importante della propria crescita personale, per questo il Consiglio regionale è vicino a tutti loro e a tutte le loro famiglie. È sempre bello e importante partecipare innanzitutto come istituzioni a tutti i momenti che coinvolgono i giovani, che vengono promossi dai giovani, che guardano anche al futuro e quindi lanciano dei progetti, una loro partecipazione anche attiva alla loro vita, ma insomma anche alla vita un po' così quotidiana della nostra società e del nostro paese. Poi giovani e cultura mi sembra un binomio molto importante proprio per le risorse che possono rappresentare i giovani del nostro paese. Ogni anno mandiamo all'estero più di 2.000 ragazzi a vivere con una famiglia, a frequentare una scuola per un intero anno scolastico, sono ragazzi delle scuole secondarie che fanno questa esperienza senza perdere l'anno in Italia e acquisiscono un'incredibile apertura al mondo, una conoscenza delle lingue, una capacità di gestirsi, di relazionarsi con gli altri che si era poi utile per tutta la vita. Noi siamo grati alla regione toscana che ha voluto dare ufficialità a questa cerimonia in cui premiamo i ragazzi che partiranno il prossimo estate. Un viaggio nella produzione della ceramica di Montelupo Fiorentino, tra storia, tradizione e contemporaneità. Torna dal 16 al 18 giugno in uno dei distretti più importanti d'Italia, l'edizione 2023 del Festival Ceramica, con le esposizioni, la mostra mercato, i cantieri d'arte contemporanea, laboratori e workshop, spettacoli e concerti. Montelupo Fiorentino nel prossimo weekend sarà la capitale toscana, la capitale italiana della ceramica. È bello sapere che si può ripartire, questo è motivo davvero di ripartenza dopo il difficile periodo della pandemia, dopo le difficoltà che i tanti produttori hanno avuto e stanno avendo anche per il caro energia. Ceramica è arte, ceramica è cultura, ceramica è il racconto di un territorio che lotta, che rialza la testa e che con le sue capacità, con la sua manualità, con la sua artigianalità offre prodotti che ci invidiano in tutto il mondo. Allora che siano tre giorni belli, tre giorni di ripartenza, tre giorni su cui costruire un futuro migliore per quel territorio. La festa della ceramica, che ora si chiama ceramica, proprio perché la ceramica è ridiventata il nucleo vero fondamentale di questa manifestazione. Una tre giorni che richiamerà i ceramisti più importanti da tutta Italia e non solo, anche dall'estero. Un'occasione importante per rifare il focus su quanto sia radicata storicamente questa tradizione a Montelupo e nella nostra regione e come ancora oggi sia importante legata al tema del design, dell'arte e quindi Montelupo in questi tre giorni, con il 2023, ritorna al periodo pre-covid. Torniamo alla manifestazione del ceramica, come avevamo conosciuto prima e soprattutto è una grande occasione per conoscere il mondo della ceramica, delle tradizioni toscane, il mondo dell'arte e del design internazionale. Una manifestazione per noi molto importante. Quest'anno, peraltro, che ha delle ricorrenze importanti. Sono 50 anni che è stato scoperto il Pozzo dei Lavatoi, quello da cui è partita la narrazione, la nostra storia, da cui si è ridisegnata la storia della ceramica montelupina. 40 anni dal primo nucleo del Museo della ceramica di Montelupo, a Palazzo Podestarile e 30 anni dalla prima manifestazione, la prima festa della ceramica. Quindi sono tre ricorrenze che ben si adattano anche al nome che abbiamo dato al sottotitolo, per così dire, della manifestazione La macchina del tempo. È una manifestazione importante dal punto di vista culturale che vuole raccontare la ceramica non solo quella artistica, quella tradizionale, ma soprattutto la ceramica contemporanea. Io curo i Cantieri Montelupo che sono questo progetto di residenze artistiche arrivato alla terza edizione quest'anno. Lo presenteremo ufficialmente con un talk il 17 giugno e sempre sabato 17 e domenica 18 ci sarà il primo workshop che inaugura la prima residenza di Maria Palmieri. Gli artisti di quest'anno si occupano di fotografia nel caso di Maria Palmieri, arte relazionale e installazione nel caso di Rocks in the Box e pittura nel caso di Scarabello. Tutto il progetto è giocato sul rapporto tra modalità sperimentali legate all'arte contemporanea e la ceramica e quindi la relazione attiva tra artisti visivi e artigiani. Grazie a tutti.